Monica che ha giudicato anche il concorso Junior Angle, Giorgia, dal backstage Giorgia, Daniele e Davide, vi tocca. Ne ho perso uno, eccolo, arriva. Gian Matteo non scappare perché ho bisogno di te, facciamo un applauso, grazie, adesso ritornate a fare il vostro lavoro, basta, basta, finito, tornate a fare il vostro lavoro. Gian Matteo, ho bisogno Gian Matteo qua vicino a me. Gian Matteo, dove sei? Vai, non abbiamo tutta la serata, eh? Allora, Gian Matteo va un ringraziamento particolare, un omaggio dall'amico Massimiliano Sicci. E aprilo. Qui davanti a tutti, mettiti in mezzo, così ti vedono tutti. Vedendola la forma. Giralo è un bellissimo ricordo perché l'anno scorso a Insubria Winner, a Malpensa Fiera, abbiamo per la prima volta istituito il concorso, questo concorso per i gruppi di allevamento e dalla Sardegna con furore è stato vinto dal gruppo di Weimaraner di Gian Matteo. Adesso ti intervisto come l'ha, allora? È bellissimo. Che dire? No, no, Massimiliano come al subito ci fa emozionare con queste sorprese. L'ho messo in difficoltà per la seconda volta. È un bellissimo ricordo che condivido con mia moglie, con tutti i ragazzi che ci hanno permesso di raggiungere questi risultati e altri che sono arrivati dopo e che arriveranno sicuramente. Noi siamo contenti e speriamo di rendere orgogliosi la Sardegna con questi risultati in primis. Grazie mille. Grazie mille. Siamo pronti per il Best in Show, vi ricordo entreranno...